Sara Casasola, ancora un successo di prestigio qui ad Ancona, raccontaci la gara. Sì, sono molto contenta per com'è andata. Siamo partite molto forti, infatti ho fatto fatica il primo giro a tenere un po' il ritmo. Poi sono passata davanti, ho provato a impostare un po' il mio ritmo e sono andata via col mio passo. Poi sul finale ho cercato di guidare e non sbagliare e sono felice per com'è andata. Un percorso impegnativo, fortunatamente salvato dal fango che ad esempio lo scorso anno è stato molto pressante. Sì, lo scorso anno il percorso era diventato molto duro, divertente però bello impegnativo. Quest'anno ci è andata bene, abbiamo trovato asciutto. Comunque un bel percorso molto duro e tecnico allo stesso tempo. Quindi complimenti anche agli organizzatori perché è venuta fuori una bella corsa, molto molto dura. Uno stato di forma da mantenere per la nazionale e per il tricolore? Adesso speriamo di migliorare ancora un pochino e speriamo di concludere bene la stagione.